Alza un po' la voce, che cos'è un po' bassa, non ti si può sentire, mi serve anche il pad. Mannaggia! Come ho in mente di chiudere il cavo in questa maniera? Ok, comunque l'avevo preso, sì. Bene, molto, molto bene, molto. Pad dentro, bravo! Allora qui, via, devo mettere la solita roba, che mi sei sull'Aistar, e zitti su, ragà. Ok. Tanto qui va come al solito. Has become corrupted by sins. Sin, no sins. Has become corrupted by sins. Perfetto. No, 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 così. Così nel caso mi cavi dell'occhio. Bene. Mi serve per favore che ti metti decentemente su full screen. Ottimo. Dunque, 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 dunque. Daily run per cominciare con Kaino. Ostia. E tra un'ora si... Vabbè. Se questa ci metto un'ora, posso già fare anche quella dopo. A meno che non abbia finito. Porca troppo. Beh. Non male come start. Per Kaino, poi, che ha due 420 di danno. E poi voglio una bomba. Una bomba. Due bombe. Due sacchetti. Una bomba. Tre bombe. Il lucky foot fa tanto. No. Questo è solo culo mio. Tu aspetti un secondo. Perché non ne vale troppo la pena. Tu, invece... Non ero sicuro di prendere tutto. Invece. E... Non essendo più un XL, ero da anche qua. Perché no? Dai. Crowded space. Scusa. No. Se mi sto un po' troppo. Oh. Uno start che libra. Levati dai coglioni, proprio. Pericoloso, lui. Questo viene sempre stati davanti a quello rosa. Morto. Stiamo scaricando qualcosa di brutto. Poli tactile. E mi dai una pillolina? Vabbè, ci sta. Dopo lo start, ci sta. Non può andare tutto bene. Che brutta. La benda da una parte, ma lui ha l'occhio al centro. Non mi interessi. Non adesso, almeno. Dopo, quando farò... La ricerca degli item. Per adesso non serve a niente. Non buttiamo una bomba qui. Ci buttiamo questo. Se riesco. Cioè, così va bene. Ottimo. E qui abbiamo invece il bello? Nulla. Ok. Best pad. Se si attiva... È un buon danno. Ha un hitbox strana comunque. La lacrima gigante. È out-inted. Incetta. Incetta di Solart. Vai. Molto, molto piano. Molto, molto paccato. E via. E ciao. Ciao. Sono abituato a Keeper. Che è un attack speed del genere. Che paura. E non ha tutto sto danno comunque. Beh. Scoppia. I fuochi. Una parità di tempo. Ma ci si può comunque anche per quella moneta che può uscire. Nel negozio non ne vale la pena. Lì ci vado dopo. Nell'altra stanza di sacrificio. Mannaggia. Mi sono d'ucidolo prima. Ah. Questa è la moschina sfigata. Non è quella bella che carica. Andiamo un po' che abbiamo qua. The stars. Una pillola che non uso adesso. Ma uso qua. Mannaggia. Contract from below. Subito. E anche. Seven seals. Che è molto bello. Perks. Tango masters of lockpicking. Vado nella stanza dei sacrifici. A vedere cosa c'è di bello. Potrei anche usare the stars e uscire. Che tanto. Carte. Avendo polydactyl. Non viene neanche sprecato. Tutto. Dimmi che uno lo posso usarlo subito. No. Uno mi fa schifo. Quindi. Ace of diamonds. Dai. Oggetto scontato. No. Però posso cercarlo. Uno scontato. Vediamo cosa mi esce. Cazzo. Abbandonare il restock è brutto. Ma. Non è una run che devo rompere. Non è una run di cui ho bisogno di restoccare. Non ho molti soldi. Mi sa che non li escono tutti scontati. No. Beh. Prendo il coupon. Prende down. Tua sorella. Non è un brutto giusto il coupon. Anzi. Molla però. Sto schifo. Ridammi questo. E andiamo via. Quello non lo voglio. E via di qua. Dopoli. Dopoli. Ah. Bastardo. Luvido. No. Non ho. Mi sembra di una vera abbastanza danni. E ho 18 di danno. Vabbè. Poi c'ho le mosche che devastano le anime. Tantissimo. Vai mosca. Andate mosche. Devastate. Può essere utile. Bad gas. Forti della vostra energy. È utile. Two of hearts. No. Quel tricket è buono ma non posso prenderlo. Vai mosca. Allora. Oh. Qua ci sarà tanto da fare. Prima di tutto. Non ci sono item che voglio. Però questo lo prendo lo stesso. Ottimo. Non mi interessa. Non mi interessa. Esti tricks. Sono ancora due batterie indietro. Che tanto devo comunque andare indietro a vedere cosa c'è da quella parte. Ci può fare se li uso perché tanto mi riporterei dito e non li userai mai. Allora. Non ho bombe. Non ho bombe. Però. Ci sono possibilità di prendere quel more option. O quello è. Vabbè. Io mi sono capito. E so far. Non funziona qui. Ok. Niente. Si va su di qua. Stupido io. Ok. Questo già mi piace di più. Sapevo che esplodeva quella stronza. Steam cell. Nope. Ci ho provato. Che schifo di item. Non mi piace per niente la clessida. Ridammi il coupon. Vado adesso a cercare... Ah. Questo è bloccato. Eh. Non lo prendo. Ho una bomba sola e mi serve nel negozio. Prendo questi. Voglio cercare di far andare il beggar con un bell'oggetto. Il burro. No. Il burro no. No. Un brutto oggetto il burro. Ci sono veramente poche occasioni in cui posso pensare che possa essere utile il burro. Questo lo prendo perché è carino. Potrei anche andare qua dentro. E ci vado infatti. Come ho detto ho una bomba sola. Non la butto per quello stronzo. Anche se... Probabilmente questa è la stanza segreta. Non posso prendere sia il muro che quello. Vero o no? Allora faccio in questo modo. La stanza segreta la apro. A posto. Con queste 15 monete mi prendo more option. Dai! C'è un'altra bomba. Porca puttana. Mi sa che l'altra bomba Me la metto nel culo Sì Non c'è modo Questo non posso attivarlo Però la bomba mi serve lì Per staffare Ho sbagliato io Ci sono Una possibilità ci potrebbe essere Ma non so con quanti cuori ne uscirei Vale la pena rischiare Ormai che ho fatto Casino a sto piano Vabbè Gimpy Non è quello In cui pensavo Ma va bene Lì ci sono Stimsel Hourglass L'altro trinket Non mi ricordo cos'è Vabbè Peccato No anzi I dammi in mezzo cuore Va E giù Prossimo piano Sto momento di caldo Con staffare Ma non posso Non posso Togliermelo Ormai che ha l'angolo giusto Ok Ok Non voglio possibilità di danno in queste stanze Demare Sì certo Perché mi prendo quello Ci sono opzioni Peccato che me la faccia a cagare Ho il capoderno No Ci ho sperato per un attimo che mi prendesse Ipotizzo Negozio Oh lo smelter Oh Lo smelter Oh lo smelter Lo smelter Lo voglio Sono un sacco di trinket utili Fino adesso che non ho voluto prendere Quindi Andiamo al negozio Ok Vai a pelo Mi serve Callus O volare Volare è più utile Fa niente Ho una batteria anche qua E Non c'è tempo Per trovare monete Batterie O altre cose A proposito di monete Magari Gli ne fregava niente Gli ne fregava I'm excited Che culo Cosa c'è Oh la pozzatoia di nosa C'è Non l'avevo vista Le monete ce le ho adesso E mi sa che me lo vado a prendere E basta Così mi smelto subito Il master softlock picking Benissimo No vogliamo chiamare altri portali Per caso La gente Sarebbe Un po' troppo bene Qua Ah io Tua sorella Puttana Mi sono preso malissimo Perché se sparava lì Non sapevo come schivare Togliamo la crampus head E me ne vado Perché non voglio Spacare altri cuori In questo piano Per entrare nella stanza Maledetta Curse of the maids Santo cielo No Così vado bene E qui dentro abbiamo Aries Oh Quella Bella Prendo la mosca Semplicemente Perché magari divento Belzebù E volo Ah c'è ancora tu Scusa Non t'avevo vista Vado di qua Madonna Due piani uguali Potete evitarmeli Comunque Due piani Costanzo uguali Eeeh Vai Sì Perks Range up E forti towers energy Eeeh E' un bello oggetto Ma devo vedere I latini penetranti Dove è vera che Vedete Io me lo porto dietro La mosca esplosiva Te la potevi Veramente Risparmiare Che culo E' un'altra Però Devo scappare Dagli stessi Alleati Eeeh Strength O Questo cosa Forti towers energy Mmm Strength può essere utile Perks Non lo userei mai Nel momento giusto Buono Mi intriga Ma non posso prenderlo comunque Perché potremmo potremmo sia la testa Di crunchy Che botta Che surprise Ma na dai Non c'ero così vicino Però Bosto still E muori Andiamo Non sto Dopo più Trinket Da prima che avevo Tre la stanza Adesso non ritrovo più mezzo Lontani da me Eh Eh Sapevo che Mi beccava Ho cercato di farla andare via Ma Non ha funzionato Noioso Noioso Dopo Eh Tanto Be Beh 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 Ci metto un po' Però Ho un brimstone Da 22 danni Per gratire Per Assaporare Devo caricare mezz'ora Prima nella stanza Perché Se no Ho il cazzo che sparo Però Però Cazzo se sparo Eh eh Ci vorrà un po' Mi serve Tio sdown Adesso Allora Uh Pettifed Pupp Che vera Smeltata Meno male Che ho cose Che fanno danno Mentre non faccio niente Io Batterie a profusione Qua dentro che abbiamo Map of secrets Che anche se non ho bombe Me la prendo E no Quello non lo voglio Con l'attivo che ho Mi sarebbe in cazzo Proprio Pay to play No pay to win Quello Gnie 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 Siolgo Come i neri al sole Li sciolgo Non ho bombe Non ho bombe Con riserva E infatti Ce n'è una Vabbè La prendo E Boom Ma non è un problema Per questo item C'è questo item, questo trinket Oh beh Carica, carica, carica Bravissimo Non ho bombe Porca merda So che sono morti Non importa in che modo Questi si che sono morti Come degli stronzi Mancato lui o mancato? Chi altro ha mancato? A voi Delle bombe Non mi farebbero molto schifo Devo dire Non mi danno niente Le stane Da un po' di cose così Allora, va bene che Weltof Sì, Weltof Certo, non quello E Come si chiama? Porca Puttana Mi venisse il nome Contract from below Abbassa la rate Di drop delle stanze Però Mi ispira Libra Mi abbassa un po' Toll danno ma mi da Mi da questo Ragazzi Oh 8 danni di Brimstone Così a gratis Oltre a 6 bombe Di cui avevo bisogno I found Pills Ora posso andare a bombardare Dove volevo Piano di tutto Lì su Chissà come sarebbe Polifemus Adesso Proprio come lacrime Intendo Allora Questi non voglio nulla Ok No Sac Poi Tutte le cose che c'hanno Alcune sono diventate Delle sacche Ma Penso Che posso andare al boss Perché è anche Dunk Depths Questo Che vuol dire Dunk Depths Aspetta Oddio Non mi ricordo se è l'ultimo Piano o il penultimo Facciamolo da qui così Non sbaglio Punto in cui piazzare la bomba Ecco Non shotto come prima Però Voglio La secret room Quella con i trinket No Ma va bene uguale E niente Boss Ah Era quella esplosiva Di mosca Dovevo aspettarmelo Le botte quelle serie Dove devo andare Io ho il cuore Semplicemente Ok Sto cazzo Ho 30 chiavi Guarda Te puoi prendere Quante ne vuoi Oh Belzebù Ottimo Qui dentro che abbiamo Un nemico E Cose Un po' Inutili Dovevo stare attento Perché non ho Molta vita Buono Buono Questo E qua dentro Un sacchetto solo È prestano Il trinket Della 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 Petified poop Smeltata E comunque Non troverò un cazzo Dalle merde Che schifo Che ho fatto Una cosa Veramente brutta A voi Guarda Tu guarda Che quello Lo Piallo di soldi Bomba cuore Bumbo Bum Non bumbo Fosse stato bumbo Sarei stato molto più contento Ah Vedo un Bob's brain Selvatico Che Dovevo stare Ben attento A quello che fa Prendi Mi sa che devo per forza Andare nella stanza brutta Comunque Perché adesso Volo Quindi è Bene un problema Però Niente Bravissime The Magician È buono The Magician Forte Quasi Energy Non mi serve Tengo String The Magician Allora Così Appena arrivò Il Poore Di Mamma Uso Entrambi Light Leaf Sono da Poore Di Mamma Uso Entrambi E li Devasto Io ci voglio Comunque andare In quella Stanza Adesso che Volo Stronzi Hey 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 E ciao Tutte cose inutili Barbercano Health up Health up Con la elfe Di Silvestro Comunque adesso ho abbastanza vita Adesso proprio viverà tutto Ho detto così Sicuro Sicuro il boss è Carrion Queen Se è Carrion Queen uso le carte Maticash Volevo dire Maticash infatti Io non Carrion Queen Insopportabile pezzo di merda Che non è alt The Lovers Io mi tengo Gappispo Ok non mi tengo più Gappispo Sono a posto Curse of the Lost Santo cielo che sfiga Per prossima stanza inclusa Hagalaz Non questa L'Arcade E voi scoppiate E tu scoppia Al che Niente altro da fare Beh almeno mi dice una sola direzione da prendere Smelter Belzebù si fa già sentire Qualche povero portale sfortunato No non divento Gappi infatti Dopo mi manco con un oggetto a Gappi Bombe infinite Tengo Gappi a sto punto Mi porto dietro delle moschine Giuda Stong La Cap Qui è uscito qualcosa Assolutamente no Ok It lives Il colpo li devio Perché Li devio se non li carico io Fuori Te li fatta In 31 minuti Ok Ho il tempo Allora Di fare Una run con Isa Che vedere di trovare gli ultimi oggetti Che mi mancano Credo Perché Ma quegli oggetti Possono uscire anche dalla grid Allora Provo a fare una cosa Vedere se mi escono dalla grid Perché secondo me Nella grid Per quanto mi ricordo È più facile trovare oggetti Ovviamente con Lilith Perché con Lilith è molto più facile Questa modalità Una stronzatina Ho due cuori Neri E due cuori rossi Adesso Quello è la moneta Niente Dopo E comincio Questo perché Se qua possono uscire È molto più comodo Ottivarlo Ottivarlo Non sapevo che agire C'era anche una cacca lassù. Stronzo, purtroppo, perché è incolpito in buona volontà. Per non scoppiare sulle monete, non devono spostarsi da lì. Due palle! Eh, questa è la colpa mia. Non ho schivato. Non ho schivato, mi sono proprio caricato in faccia. Adesso comunque ho due cuore rossi e un cuore nero. C'è monstro? No, è un altro... Tutti questi scorsi brutti. Morto? Sì. Penso di non essere mai diventato Gappi nella grid. Non sarebbe male farlo. Bastardo. Tarot Cloth. Non ci sono item che mi interessano. Faccio un'ultima prova qui da lui. Caffeine, please. E speed up. Oh, è the mind. The soul. Mi sta uscendo sempre the soul ultimamente. Questa sia una faccia. Tarot Cloth può essere utile, ma no. E range up non me ne può fregare di meno. Mi sono cacato. Mi servirebbe anche una bomba? C'è una bomba? Manco per il cazzo. Eh, niente bomba. Che abbiamo qua? Uh, questo è Growth Hormones. Speed damage dovrebbe essere. Vediamo che altro c'è di bello qui. Beh, queste ci sono. Allora, mi servono una chiave per dopo. Mi servono quattro chiavi in totale, quindi ne prendo quattro. Visto che sono scontate, le prendo adesso. Qui abbiamo Glass Cannon. Ma manco per idea. Non lo voglio, Glass Cannon. Siamo fuori. Eh. Succede... Lo sapevo che succedeva così, purtroppo. Stavo per dire, non è che abbiamo trovato potenziamenti finora, quindi... Potrei andare lento. Ho trovato Growth Hormones, che... Un minimo di aiuto lo danno, comunque. E ci vado dopo. Perché per adesso... Ho troppe cose di preoccuparmi, tra cui non camminare sulla piattaforma centrale. Vieni qua. Vieni qua e scoppia. Stava evitando i colpi. Era fortissimo. Meh. A differenza mia. Ah. Non so cosa spawn... Ah, ragni esplosivi. Pillole non si usano finché non si è finita la modalità. Cioè, finché non si è finita proprio la... La stanza. Che mai è un Telepiz per 2-4 Incubus. E non è il caso. E mo' i e tu! E tu! Io non lo sopporto. Oh, è morto, però. Ok. Vieni qua. Non temere la morte. Ok. Eh, che cazzo! Quanto sopporto poco anche Krampus. Quanto colline più o meno che altro. Quanto sopporto poco più o meno che altro. Bella Power Piece. Guarda, visto che serve la resistenza prendo questo. Anche dei mini o mi potrebbero fare molto, molto comodo. Tutto ciò Principalmente Prenderei anche una batteria Infestation 2 E box La cap Rose card E fish head Ok Che bello quello Allora è bello in realtà Utile volendo Ma non volendo io No è che Non posso togliermi comunque Il mio attivo Se no lì perde tutta la sua efficacia Senza box of friends E soprattutto La testa di crunchy Serve quando Hai un Tipo hai il brainstorm O cose simili O cose simili Devi morire anche tu e anche voi Posto Sì queste bombe fanno male a contatto E qua ce n'è un altro Bastardo l'avevo mica visto Qual'è sta colpa mia? Mazzà Tu che vuoi? Credeteci abbastanza e forse riuscirete a farmi male voi Questo lo prendo Quello lo prenderei Ma non con così poca vita Solo perché è un mignolo prendere tanto Non che me ne freghi molto di multidimensional baby Voglio questo E basta Hivemind Sì hivemind avendo infestation shot Sì E ho anche un pezzo di gappi Magari lo divento Però mi sa che non è andata Come speravo Tutta sta cosa Oh mi si è attivato Campion Conception Ma ha dato un altro succubus Un altro incubus Womb E qua dentro Un trinket Ok Volevo fare esattamente questo Pentagram Oh Adesso ho uno sbarramento letale Il dicento Il dicento lo devo prendere Mi manca come item Ehm Oh Per uscire una moneta Questo lo devo prendere Se è uno spreco Ma lo devo comunque prendere Hivemind Fa un lavoro Aaaaaa Un lavorone Potevo usarlo un'altra volta L'attivo Ma perché farlo quando Ma non c'erano anche Policefalus Ciao Mi aspetto come minimo Gli Scolex Mi aspettavo come minimo Gli Scolex Non ci sono Per fortuna Troppo vicino Ok Il delirium Sì Peccato Ma mi serve Ma mi serve Ho un oggetto Che mi mancava L'ho preso Potrei prendere anche questo Sì Prendo il BB Bender Che non è male Come Non è malaccio Non è esattamente In seguimento Non lo ha E il BB Bender Non so come funziona Esattamente Il suo tipo di inseguimento Magisbow E un altro GP up Carte del divorzio Visione raggi X Tu Ho degli altri cuori No Va bene Una cosa che penso Di non aver mai detto Di cui mi rendo conto Solo ora È Che Sheol Probabilmente È diretta da Michael Bay Tutte queste cose Che esplodono Appunto Ah Ora mi ricordo Perché BB Bender Non è un vero E proprio in seguimento Perché Dai là che In seguimento È i minion Che su Lilith Sacrificate Dagger Ok Ora posso prendere Un po' di Cose The sun Può essere utile The sun Non prendo nulla Qui Aspetto il prossimo piano Perché Adesso Dovrò controllare Anche se il D100 Me l'ha preso Come oggetto Dovrebbe Teoria E qua Non vedo nulla Ok Non ci sono Nelche modi Per rarrollare Oh Vado di PhD Che pena Oh Ragman Ciao Ragman Addio Ragman Che Cazzo Esploso Questo è andato in faccia io E vabbè È colpa mia Muori Sì Vabbè Frail Neanche il tempo Di spawnare Voi Ah Così Gappi Da che ho detto prima Non sono mai diventato Gappi nella grid Forse Ecco Sono diventato Gappi nella grid Prendo la spider Mod E Che abbiamo qua Ia No Non funziona Col fuoco Speravo Non mi ha dato Manco un cazzo HP Up Grazie Sarebbe almeno interessante Se Madonna Che male Allora Sarebbe almeno interessante Stavo cercando di dire Se Lo steam sale Facesse fare Più danno O meno danno A A grid Qualcosa che Abbia un senso Comunque E poi Ah Paura Devo affrontare Ultra grid Cioè Ultra grid Dorato Devo affrontarlo Per forza Con Senza immunità Le esplosioni E' brutta E' brutta Eh Il terremoto Non Mai capito Come si evita Il terremoto E' brutta E' brutta Ecchi te Calmo Con sti salti Tu Vieni qua Perché Te ste mosche In faccia E muori E basta Mettiamo le monete Nella grid Tanto Non cambia Niente E si va Vediamo un attimo Una cosa Uno Due Tre E di Cento Preso Non so Non so Dove è Scritto Ah Eccolo Qua Benissimo Mi mancano Scissor Eucarist E Marble Eucarist Mi sono Dimenticato Di Eucarist Vabbè Facciamo La daily Con Magdalene Anche Questo è speed up The mind Mi capita Sempre uno Tra questi Comunque The mind The soul The body The body No Non tanto Più gli altri O non che mi lamenti Anzi Io adesso Quattro Corriossi Stavo pensando Per la stanza Di sacrificio Quattro Corriossi Di cui Uno Ricaricabile Merda Merda Questo purtroppo L'unico modo Che conosco Per affrontare La stanza In modo Rapido E Relativamente Indolore Purtroppo Non funziona Sempre Adesso Tre Corriossi E mezzo Dove riuscire A caricarlo Almeno una volta Se questo magari Mi do passi un cuore Sarebbe anche buono Oh sì Benissimo Conosco le stanze segrete Ma preferisco farlo Nella cassa Ok Ci sta Io ho cambiato Ovecchini Ieri Questi qua Mi fanno ancora Più male Ok Due Corriossi E mezzo Riprendo quello Tre Corriossi E mezzo Questo lo prendo Perché sta lì Pelo Quattro Corriossi Vado lì E restano Praticamente Quattro Corriossi Ok Sto così Perché devo tenere Gli orecchini Fuori dalle cuffie Perché Devo sentire Un attimo Che sento Casini Sul pianerottolo Ok Posso ancora Usare Quindi Fa niente Posso ancora Usare Un totale Di tre cuori Nella stanza Di sacrificio Questo Ho messo E non concesso Che l'Eri Mi droppi anche Dei cuori Così Posso usare Di più Le cacche Non le vorrei Scoppiare Perché Hai Gli Vaffanculo Rewelto Fanswear Buono Rewelto Fanswear In realtà Adesso Ho Cinque Cuori Di quei Quattro e mezzo Posso Non sono sicuro Del quattro e mezzo Perché non so Quante nemmi Abbiamo fatto Leri Quindi è come se Ne avessi Quattro Ne posso Usare Tre Uno Due E tre Per utilizzare Sta pillola Vado a riprendermi Il cuore Che c'era lì Posso anche andare Nel negozio Ci vado anche Nel negozio Adesso Dov'io Dov'io solo Da mamma In realtà Devo fare Chissà che Posso usare Ancora Una volta La stanza Del sacrificio Ancora Basta Perché non so Se ho un cuore A mezzo Cuore Non so se ho un cuore In mezzo O un cuore Solo Pillola Non sono uscito In fretta io E Negozio Dove Troverò Open stop C'è un cuore Posso utilizzare Due volte La stanza Angelo E Ah Perfetto Benissimo Un primo piano Degno di nota Adesso vedo se ho un cuore In mezzo Un cuore Ma comunque è andata bene Lo stesso Quindi chi se ne frega Quella moneta Magari da una chiave Peccato Niente Giù Adesso ho 7 cuori D'acciaio E 5 container Dovrei Esatto Ho un cuore In mezzo Ok Prendi qua Stanza velocizzata Ma non mi importa C'è un piccolino Bello lui Non diciamo cose Non ho monete Non ho monete Non ho chiavi Una chiave ce l'ho lì Volendo Perché Buttarmi A pesce Poi ci sono le trovo altre Stanza rallentata Moneta Volto fanswear Ecco Mi ha sentito Che l'ho chiamato in causa Beh Una Una ce l'ho No Dove sto andando Mi serve un botto di bombe No Perché Ho detto un botto di bombe Adesso vi darà O un antenna in bomb O 5 bombe Da un oggetto Oh Il D-100 Spelunker hat Divertente Il D-100 da usare Quindi Lo porto dietro Molto volentieri Vado 5 bombe Sul serio Uno Due Quel to fanswear Non è stato cambiato Mio Ho la carifagia anche Che bello Movimenti Corti e ben distesi Senza panico Che sti Anni tanto Mi saltano in faccia Comunque No No Non me ne frega niente Pin Lascia Lasciami caricare La carifagia Pin In destra In destra Un so pin Range up Move the void Tanto è la daily Non mi dà obiettivi Comunque Anche marble Non me lo dava mai Quindi Faccio così Entro anche Nel negozio A prendere Questa E mi vado a prendere Anche quegli oggetti La Questi Quella chiave Neanche ne vale la pena Ma la prendo lo stesso Qua invece Una bomba Qui Che 5 monete Qua A posto Ho anche 28 monete Negozio Va bene Dai Continuo con il D100 Questa linea è un po' Un po' tanto a caso Sta andando Ma vabbè È solo la daily Chi se ne frega Baddina box E Speriamo di essere Dipendo Qui sono full vita Al prossimo piano Non ho più mind Che è un autore di coglioni Ma fa niente Un po' di bombe Qua Ragno brutto Bastardo Ho culpato Giustamente il Prendiamo Che Via Lì c'è una chiave Adesso aspetta un secondo Appunto Il curse dai È l'oggetto Antiboss Per eccellenza Mannaggia lui When legs Gives you lemon No questo è lemon Mi sceps When legs Gives you lemon È la challenge Jump Togli di dalla pool Per favore Grazie Lockison C'è qualcosa Che non va Molto In In questo Fan culo I funghi In questo Mio modo Di sparare Uh rustic Che in realtà Molto meglio questo Direi il vero Amnigia Bene Quanto meno L'ho trovato adesso Amnigia Meglio così Amnigia di nuovo Per toglierlo dai coglioni Vorrei Vorrei gulparlo Quasi quasi Questo Però per adesso Non posso Dai che lentamente Lentamente Ritrasomi in qualcosa Sicuramente Già mi ricordo Comunque Che qua non c'era nulla Più o meno No Mi fa male che non abbia Niente Danno Shot speed 8 di shot speed Che è qualcosa Però Non abbastanza E poi caricare il dicendo E sperare che mi dia qualcosa Di utile Più che altro E dai Ci metterà un anno A morire Oh grazie No Dal boss così non ci vado Voglio ricaricare un'altra volta E Rischiarmela Per come me lo fanno uscire Il personaggio Ci deve essere Ancora una stanza Su Qua giù Ok E Statistiche non ricevute The chariot E Range down Vabbè Delle belle statistiche Ho ricevuto Sì Voglio entrambi gli item E ora Affilati dal boss Carico anche un chariot Già che ci sono Dal boss Così me lo faccio Rapidamente Io ci credo almeno Faccio piena così Spanato sul fuoco Jesus 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 Altro danno e altro range Ho il doppio di danno iniziale Quindi ottimo così Ok Next Vermetti Merdosi Non dovevo uscire Ahia Non dovevo uscire dalla stanza Lì Ma anche se sono Messo bene con gli item Io continuo a utilizzarlo Di Cento Perché voglio le trasformazioni Io non voglio gli item Su un problema Chiavi E muove Ora Di Cento Tower Hierophant Non posso prendere Ma sì Spidappiamoci ancora un po' di più Voglio questo ancora E qua abbiamo The Lovers Che spawno Sono detto mamma Probabilmente Sì Ho ancora pieno di prima In realtà Però mi sento Meno efficace Cosa perché Spar troppo veloce Non esiste Spare troppo veloce Semplicemente Rispetto a prima Sparo più veloce Di quanti danni faccia Quindi mi sembro Inefficace Mi sento Inefficace Non mi sembro Come parlo Hey Hey Ai Bombe Bombe Fracco e mezzo Di chiavi Certo brutto Non è brutto E buono Però Nè E vai Ah Adesso è un nerf Justice Cosa profusione Di 100 Di nuovo Pandora's box Peccato Ah però Anche Flappinson Questo è bello Oddio Cosa spara Beh Mazza Quegli esplosivi Sono pericolosi Ah è appunto Mezzo cuore Continuo a esplorare Mi sta dando Un botto di cose Ma nessuna Trasformazione Strano Un lucky penny Li vedo Di Empress Che abbiamo Qua di utile Un cazzo Di niente Boom Che schifo Mamma mega Dai Te ti uso una volta Perché mi piaci Steam sale Car battery E chaos Va bene Vediamo un attimo Che Cosa mi porta Uuu Bella questa Uuu Non ho soldi Bella quella Ma non ho Cazzo Ehm Ho un'idea Per far spawnare I soldi Allora Un'idea Di base È così Se no Ok È perfetto Funziona Che paura Che mi ha fatto La mamma mega I always Funziona questa cosa Molto a caso Funziona Perfetto Mi sono andato Belzebù Quanto meno Porca miseria Va bene Ehm The Empress Or the devil The devil Dove darmi un Buff più alto The devil Sono un piccolo Tulucarino Con capelli Bellissimi Che è successo Quello scudo Che si era paralizzato Là Oh maledizione Oh Ma Quanta maledizione Tanta maledizione Tengo la blank Un secondo E vado Qua Perché avevo visto Questo che dovevo Ancora prendere Shiny rock Non me ne frega niente Black uniamo The devil E boss Perché delle rank Dovrebbero durare poco Le dovrebbero solo da mamma Mi durano invece Sessant'anni Chiave Perché si è andato anche con Johnny in teoria Ma si Ma si Questo è stato solo Un rallentamento Per me stesso Perché avevo già full vita One Makes you Small Niente Prossima Um Faffa niente Quella che Nei magnetiche Subiva un sacco Di danni Explositeria Io Volevo prendere La mia La mia Carta Volevo prendere Soltanto Mamma Quanto Si Un Papali Mamma Di Cento Oh Per carità Grazie Ecco Questo non è male Faffatto Non mi basta Voglio di più Madonna Era talmente potente Che ero fin lì Questo invece è Silver Dollar Silver Dollar Che non so cosa faccia Forse mi va a mettere la possibilità Che spavino Monete d'argento Tutto può essere Tengo questo Dai Anzi in realtà Con tutte le monete Che non mi serve Per continuare a tenere questo O aggiungerò altre Transformazioni Prima di finire Il Livello Di qua Ah Perfetto Seraphim Oh Mamma In PlayStation 2 Dai Un po' Tutti Adesso Tu Non puoi Passare Nel senso Troppo Non puoi Passare Per sicurezza Tirerò Un The Devil Ah Sono pure Le lacrime Madonna Madonna La lacrime È mortale No Chiuserò mai A te Via No Di qua Infested A posto Questo Di 100 Non ho range Ma sparo falci potentissime Potentissime Sono solo grandi in realtà Vabbè Sono all'ultimo piano Sì Appena Cambio un'altra volta Poi vado a prendere la Bibbia Giusto perché il gioco Dice Dai Falla in fretta Ma non c'è più voglia di vederti qui Ah Oltre Si chi ha il Rainbow Effect Sulle lacrime Tre pulsanti E nessun nemico Il cazzo Mi ha fatto danno Poi ho full health Non è neanche un problema Pio Mom makes you small Viene il negozio Cose Cose Credo cambierò Placenta Non me ne frega niente Bogobombs E Terrorcloth Una stanza E randomizzo Bravi Fangai Ace of claps Ace of claps High priestess Non voglio usare High priestess Oh Non ho vita Che brutto Vediamo per quanto Non ho vita Spider baby Spider baby Ma E' una trasformazione Che non conosco Spider baby Perché Anche l'altra volta Vedevo sto ragnetto E non sapevo che cazzo era Mi sa che è una trasformazione Adesso prima finisco Strammela Vado a vedere Cosa fa Oh Il laser Aio Ho già capito Che non mi devo muovere Quando sparo Fa un culo Quando sparo Mercano Dai Di tutto quello che c'è Non ho preso la tinted Power pills I can see forever Range up Infested Speed up Ok Ma non so Io che sparo L'asera Convoce Sono Il Tech 2 O il Soy milk Come faccio L'avere 7 Di attack Speed Con il Soy milk E 8 94 Di danno Con il Soy milk Soprattutto Non importa Se mi becca Non so Se sono Tenendo Già Gappi Per dire Oppè Bella Non lo so Cosa è Successo Tredicesimo Sì Perché Non c'è ancora Giocato Nessuno Probabilmente Ok Adesso Dammi Dammi Isaac E andiamo a cercare Gli oggetti Urs of the lost Tua sorella La batteria Di cui non me ne faccio Un cazzo Per adesso Lì ci sono Due cuori Che posso Raccogliere Soprattutto Le pipine Sono cose Che devo Ricordarmi Dio due cuori Una batteria Indietro Lucky penny Posso prenderlo Lucky penny È una bomba Effettivamente Lo prendo Buono E due cuori e mezzo Posso recuperare Infestation They grow inside Va bene No mi va bene Che cosa sto facendo Io devo cercare Le forbici Power pills XL No Pissarmi 3.100% Di satana Cagli di merda Mi sta bene Che cazzo sto facendo No ma cazzo Devo Devo prendere gli oggetti Che mi mancano Due bombe Due bombe Posso usarle qua Le due bombe No in realtà Posso usarle una sola Perché non ho chiavi High priestess Dovrò farmi beccare Anche lì però Mannaggia A me non importa Dopo Io vado a recuperare Un cuore Che era qua sotto Sì Adesso posso recuperare Un cuore e mezzo Quindi Sì Mi serve ancora Una chiave Magari Bravo Isaac Che quantomeno mi fai completare Le stanze Adesso C'ho Due cuore e mezzo Recuperabili Però non servono a nulla Perché Non c'è la stanza Di sacrificio Se vi avrebbe una bomba Adesso Se vi avrebbe una bomba Posso cercare Un negozio Oh calma Perfetto Adesso Adesso Questa Questo Se trovo una bomba Al negozio Ottimo Una bomba E un solato Al negozio Dai Predict Buccio di culo Dovrei dire In realtà Questo piano comunque È andato più o meno A puttane Perché ho sbagliato A prendere Infestation Potevo anche Non prendere La ball of bandages Oh vabbè Stavo più attento Adesso Dai Ok Rompete il cazzo Questo in realtà È buono Come item Però Ovviamente Devo cambiarlo Triple shot No E Quell'affare Siete Noiosi Vi prego Morite Oh 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 Bravissimo Tu Esti tu Ok Moneta Non serve a niente Cosa che esplode Ma dai Mi hai camminato in faccia Qui con me Voi due Anche voi due Così Poi non avrò più Tutti i coglioni Ok The tower Mmm The tower Dove la posso usare The tower Qui potrebbe essere Una buona idea Per i sei vasi Un po' meno Eh Possiamo Un pochino Un pochino Meno Buona Un sacco Di consumabili Sicuramente Lo userò in quella Stanza lì Perché The tower Non me lo voglio Portare dietro È una merda Di item The tower Di item Una merda Di 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 carta Ah Boom E Nasconditi Dai Per una moneta Ne vale la pena Non stai tutto Considerando che funziona A cazzo Per me che non ho evocato Mosche aggressive Questo esplode E basta Vuoi No Devo le mosche Dentro questo Spesso e volentieri Me li confondo I I nemici infestati Questo Di sei carico Vuol dire che Torno alla stanza Del Tesoro Attivo Di sei Vedo se mi escono Le forbici Non sono forbici Torno lì Vedo se Prendo la batteria Attorno alla stanza Del tesoro Vedo se mi escono Forbici Lo dico già Non sono forbici Probabilmente Non sono forbici Cricket's body Io dovrei Fare sei stanze Ma non penso Direi sei stanze Mo dico Già Già Un botto di vita Questo Per l'ho fatto Va al secondo Piano Champion Viola Grazie 1 Se il boss O chi Per lui Quattro Non mi riesce Una batteria Non posso Fare niente Devo prendere Il E' un bel item Ma non è quello Che volevo Prendere Comunque No Peccato Voglio vedere Se moriva Da solo Questo Entro Non faccio Nulla Ed esco Matchbook E Vado a prendermi Il Cricket's body Che Ripetisca Un bel item Ci va ad andare Un sacco avanti Nella run Anzi Sarà sicuramente Tanto utile Per questo Tears up Non è vero Però Mi passa anche Il range Però fa un bel effetto Al colpo Poi fa rendere Anche Isaac Bellissimo Con quegli occhioni Lucidissimi Isaac piange Basta Non è bello Molto più carino Lui Così No La pillola Non la uso Perché Potrebbe Essere Molto Facilmente Potrebbe essere Semplicemente Forti Tower Senior Ci sarebbe Sprecata Adesso Quindi Prima di Caricolo La jet Ah io Sono stato Stupido Io Ti muovo Io Stupido E Quale Qua Panculo Anarchist Cookbook Non me ne frega Niente Vediamo se Era veramente Un Forte Tower Energy E Fa un Pills Devo Pensarci a Ste Cose Se voglio Ottimizzare I Tempi Ho una sola Chiave Però Posso Rischiarla Per Arrivarci Dopo Poi Qua Ok Dice anche Una cosa Sto Un momento Mi sono Ricordo Che c'è Una cosa Qui Ho trovato La cosa Che mi fa Stare sveglio Per sempre Io già bevo Un botto Di coca cola Ma questo È l'energy drink Della coca cola Bevo un po' Adesso che Non è chissà Che di buono È molto Simile Alla Monster Bianca Io trovo Quella Normale Troppo dolce Quella bianca È meno dolce Più Più Fruttata Diciamo Mi sembra Sapore di frutta Sempre a me Uno di quei due Vuoi muoire Grazie Ah Un attimo Perché mi devo Riprendere Che Aia È rischiato Malissimo Io qua Mi servirebbero Tre chiavi O anche Di finire la stanza Prima No Niente Una stanza Dal D6 Un attimo Che hanno suonato No 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 Grazie a tutti. 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 Dovevo sparare in là, in teoria. Non senti nulla, vero no? Chad! L'unico altro modo che mi resta per vedere... Ok, è morto. Per cercare di trovare delle chiavi o delle altre cose... A questo punto... Ho preso una chiave almeno. Hagalaz... Bosto of steel... Pay to win... Pay to win... Ora... Destruction... Non mi ricordo mai se... No, Destruction funziona solo con le rocce. Quindi non mi può aprire... la porta... La porta... Che riga adesso... Allora... 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 Sto un secondo... Sto un secondo un po' in silenzio perché c'è un venditore porta a porta che rompe il cazzo... Penso che mi si sia sentito... C'è un venditore porta a porta... Non voglio farmi sentire... Oh... Un sacco di pennies... Ok... Quindi... Qua... Non cambia nulla... Niente di utile... Credo sia andato... 19 monete... Dove me le posso buttare? 19 monete... Qua... Volendo posso anche cercare la super secret e... Però non saprei dove cercare dove iniziare con quello... Oddio... Può essere in... Tre stanze... Credo... Forse di meno... E tutto... Hagalaz... Niente... Speravo un po'... No... Ma si sta scappando la parete qua? Mi sa che era soltanto un effetto grafico... Si è crepata la parete... Non è qua... L'uomo può essere soltanto lassù... Invece va negoro alla stanza... Incredibile... Qua tipo... Si... Ok... Ok... Niente... Prendo un'altra bomba perchè mi può tornare utile... Prendo anche la carta perchè non so cos'è... The Chariot... Va bene... E... Niente... Via... Managgia... Troppo stretto... Fanno un bel effetto adesso comunque... Tutta tutti... Cioè... Le lacrime che lascia... Le lacrime che zompano... Con lo splash damage... Orca miseria... Non pensavo scattasse... Cioè... Da queste me le devo aspettare purtroppo che scattano a caso... Comunque non ci pensavo... Eh... Niente... In queste qua... Devo trovare... La stanza del tesoro... Niente... Tranne qualche bella monetina... Potrebbe essere anche la stanza del tesoro il problema... Ottimo... Ottima esplosizione... Eh... Infatti... Ti pareva no? Porca miseria... E... Scoppio... Mi sono tirato il microfono... Sì... Che bello avviare le maledizioni... Momswig... No... Bomba... Devo uscimmi le forbici... Prima vado giù... È un PXL... No... Catacombs 2 però... Ah no... Catacombs 2 sono solo... Al... Quarto piano... Sono nella necropoli... Il... L'ultimo... Che io ho sempre pensato che necropoli e catacombe fosse la stessa cosa... Ma secondo... Secondo Isaac no... Bomba... Questa la posso usare... Nella stanza del tesoro... Uh... Ok... Devo accumulare un po' di cuore allora... Lì ne ho mezzo... E basta? Solo mezzo cuore? Sì... Se devi farmi sto scherzo... Fammi centrare in quella stanza... Così la faccio... Proprio no... Ok... Mezzo cuore... Che non mi cambia molto trovare dei cuori interi... O altre cose... Quanti ragni cadono... Come qua... Quasi come in Australia... Va bene... Faccio questa dai... Meno scherciato contro il muro quando faccio quelle schivate... Un po' di roba... Vado subito a cambiare oggetto va... Ho anche una batteria da riprendere qui nel caso... E l'oggetto diventa... Splunker... Sprinkler... E' l'oggetto Sprinkler... Ma non è quello che voglio... Il fatto che sia un attivo mi dà speranza che possa essere un altro attivo adesso... Invece no... Flaming Tears... Qua penso ci sia il boss... Nooo... Non c'è il boss... Qui... Uh... La Black Candle... Eh... La Black Candle me la prendo... Perché voglio vedere che cazzo vado incontro... E voglio che sta maledizione finisca... Soprattutto... Ho sacrificabili... Un po' di cuori... Ma non così tanti purtroppo... So che ho una bomba... Mi sono solo dimenticato di usarla... Merda... Dovevo saperlo... Ragmega... Porca miseria... Ragmega di merda... Morto per fortuna... Uh... Sì... Lucky Penny... Sì mio alleato... Non c'è Eucarist... Tra tutti gli item che poteva darmi... Non c'è Eucarist... Eh... Dead Dove... Dead Dove... Che dà anche la Lucky Spettrali... Peccato... Peccato anche non avrei avuto il D6 lì... Però non potevo aspettarmelo purtroppo... Ultimo... Forse ultimo... Crack in the Sky... Perché adesso con... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Posso usare 8 cuori in sta stanza... Che dovrebbe bastare per fare tutto... E mi restano due cuori rossi in teoria... Buona... Buona anche questa... You feel blessed... Sono già stato qui... Rischiatissima... Cuore... 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 Ah... Già che ci sono... Prendo anche questo... E un altro cuore qua... Il boss non mi ha droppato niente, vero? No... Teccare... 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 Cado... No... E non ti lancerai... Vediamo che esce qua... Teleport... Ma che bella merda... Togliamolo... Togliamolo quanto meno dalla pool dai... E infine... No infine... Sono ancora due cose da usare... Sono meno monete o sono anche una sopra l'altra? Bastardo... Ok... Ci sono le ultime speranze di trovare un oggetto lì dentro... Che sono... Queste... No... 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 Spider love... Lo spider baby... Devo vedere quelle spider love! Poi prendo hive mind... Vabbè... La bomba la prendo anche per cosa dire dopo... La chiave... E... The magician... Sono ancora un po' lento in tutto ciò... Ma si può... Fare qualcosa... E... Giù di qua... Che cosa ci sarà di bello qui? Niente... Di utile per il momento... Ok... Dammi dei cuori dai... Che non voglio rischiarmela così in modo stupido... Oh beh... Non mi dare cuori... Merda... Eh... Ho schierato male io... Niente... Si ricomincia... Una chiave... Una chiave... Perché rifiutarla... Una chiave... Ma non mi dare il cuore... Trolla... Veramente... Se la... Se la piglia male hai... Questo dove prendessi anche la bomba... Si... Un bel po' di monete... Dopo... Bello... Ma... Non voglio... Anarchist cookbook... Guarda... A te ti uso pure una volta... Bene... A parte che non hai aperto... Come hai fatto a non aprire neanche un buco qui... Da nessuna parte... Posto... Posto... 16 monete, 2 bombe e una chiave... Nient'altro... Non riesco ad aumentare... Magari... 17 monete... Però non c'è... Il dado... Non c'ho batterie... Non c'ho bombe... Non c'ho cose... Piggy bank... No... Scoppia... Eh... Scoppia ancora una volta... Si... Vieni qua tu... Eh... Bon friend... Non è che mi faccia molto piacere bon friend... Ragni di merda... Ragni di merda... Ragni di merda... Mi è full... Mi è full... E... Prenderò probabilmente... Ban friend... Oh no... Aspè... Ci sono ancora alcune possibilità... Da varare... In tutto ciò... In tutto il boss... Potrebbe darmi qualcosa di utile... Que... Eh... 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 Quag... Spawno è ancora un paio Di quelle grosse Questa so che spawna va bene Tutto quello che si vuole Però Speed Allora Ho la possibilità di arrivare a 5 Solo 5 Si prego non c'è Se arrivo a 5 monete e trovo una batteria Ok E il Bumfriend diventa Bob's Brain Va bene Un bel danno comunque Bobby Prendo anche questo E si va al prossimo Giù di qua Bobby andiamo Vai Bob Una chiave per la stanza del tesoro Come abbiamo fatto a non saltare Nel fuoco Quello lì non lo so E francamente è meglio così Questo è bravissimo Un'altra chiave Per il negozio perché avevano soldi Se c'è uno scrigno magari Una bomba Quanto vuoi rompere i coglioni Questo faccio dopo Autotiret Baby No Ok Uh Angolo Un sacco di chiavi mi sta dando Per carità Buone Però Ok Il boss mi ricaricherà l'attivo Posso tornare là Ah Monstro Grande amico di Isaac Non pare cos'è la casualità da lui Vediamo un po' Questo ci entro Lo rifiuto Ed esco Poi Apro lo scrigno Explosive di aria D6 Teleport 2.0 Sì Cioè No Cazzo Se voglio andare in AMR È un problema Però ci voglio andare in AMR Via Ah ci sono anche le secret È vero Sono dimenticato Immagino Può essere lì Non c'è neanche niente Che possa prendere In realtà Non mi ricordo neanche più Cos'era l'Item Francamente L'ho mollato lì Ah è Teleport Giusto Ragazzo L'ho appena usato Come ho fatto a dimenticarmi Che era il Teleport 2.0 Vabbè Range up Già preso Oh è Fanculo E Dai Chiave Quella non la volevo schivare In quel modo assolutamente Affanculo È una runa Boom Tu devi morire Io sono ancora Praticamente base Ho del range in più Che schifo faccio Non voglio beccarsi il verno In realtà Voglio beccarsi La mosca Così Bello il disecarico Non ho Dove usarlo Ma è bello Bob Va bene Tutto Ma non sono ancora Stronzo Tengli stare Avere La stanza Il tesoro Per poter Scaricare Il D6 Poi Poi se può Fa gol Eh Ok Niente Eh Che facciamo Ci chiamo A pariscola Sprinkler Non mi serve Lo sprinkler Ben che meno Quello Eeeh Da Ti devi aspettare Un attimo Che uccidevo io La moschina Di merda Bob Mazza Il pelo Mazza Il pelo Che mi fece Qui Non devo Full health Non devo Da nessuna parte Come no Bob Cidi Ah Va bene Così Vaffanculo A me Non ero così Tanto vicino Da beccarmi L'esplosione In faccia Sono corso Dopo in là Forse Quella è un'altra Storia Bob E vaffanculo Potrei aspettare Un attimo Di nuovo Stronzo Mi chiedo Se ci sia Veramente Cosa che posso Fare a sto Punto Prendete Quella Una Che è Ansuz Mi dà Visione Su Mi dà Visione Sulle stanze Segrete E dai ragazzi Beh Merda Colpa Non sono più Molto Concentrato Allora Di qua Tu scoppi E mancate Voi Ho Scrivato Male Mi sa che Faccio strana E chiudo Perché non sono Molto concentrato Cioè chiudo Nel senso che Cambio gioco Anzi Bisogno Mi sono i 20 Chiudo Mangio E torno Con un altro gioco Però non con Isaac Perché così Non sto Affatto andando bene Adesso L'ultima cosa Che mi resta da provare È la stanza Super segreta Dritta di là Vacca grid Cioè Vacca Non so perché È venuto grid Ah è Meni che si chiama Lui Ragman Vacca ragman Però ottimo Che c'era ragman Così mi sono ricaricato Pena del boss Ora Di sé Nella stanza Del tesoro Non sono quelle giuste Però Porca puttana Basta Allora Facciamo in questo Mudo Voglio facilitarmi Il lavoro Con lui Basta Vado a riprendermi Il D6 Forse posso Fare ancora Un cambio Settiamo Una batteria Sì Il D Il Le Proprio Si diventano Pausa Che schifo Di Item Che mi state Dando Va bene Giù di qua Giù Giù Non colpisco Questo affare Manco per idea Perché è la volta Buona che L'audio va Puttane Ok Chi ha Caraca Bomba Bob Bob A posto Bravo Bob Se questo Mi colpisce È colpa mia Ma tu Ne hai eliminato I quattro Va bene Così Bene Bene Ok Transare il tesoro Trovata Devo uccidere i vermi Questi qua Col Bob Perché Sono i più duri E adesso Bob si scan Tenea Su Di lui Dai No è un bell'oggetto Ma non è quello Lo devo prendere Comunque Se voglio cercare Ok Ah Mollare Polifemus No Eh lì Avevo ben poco Spazio di evitare Ok Meno Hulk No non meno Hulk Penso che venerebbe lui Ma Devo fare tante istanze Per ricaricare L'attivo Nenche Pericetze Eh porca merda Non sei morto Con un'esplosione Tu Eh qua sono Stupido Io Ah ma pure Io pensavo che solo I sacchi verdi Fossero immuni All'espressione Degli altri sacchi verdi Invece sono tutti i sacchi Essere immuni Stronzi Stronzi No vai dritto Bob Non ti pazza Non ti pazza è Sapevo Non mi lasciare molto in tempo Stavolta L'ultimo da qui Speed up Ultima stanza E poi vedo Allora Se muoio Qua mi serve Un sacco Bob 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 Sui champion Sui champion Bob No verme di merda Va bene Almeno uno l'ho ucciso E muori Ripeto muori Porca mia Mira bene Ecco Che stanza di merda Senza danno Oltre 50 di danno Quello non è vero danno Questo è vero danno Che stanza di merda Che mi ha messo davanti Che abbiamo qua Robo baby Friends Tilt Eeeh Non posso manco andare A prendere quello Ma L'era in te Non funziona Come cosa da far scoprire Per i ponti Vero no Purtroppo forse Un secondo Cari Bob Non ci pensare Nemmeno Ecco Se vuoi andare Bob vai Eeeh Addio Lucky foot Lucky to No lucky foot No mi tengo Lucky up Il lucky up Il luck up Mi tengo Ma Ok Bob Se vuoi andare Stai però Dentro Ok Ok Bravo Bob Eeeh Direi Che continuo Bob Bravo Bob Petrified poop Che peli Puoi morire Ok Resta solo il boss Sì Resta solo il boss Che due coglioni Ragmega Ragmega Ma Sì Dai Non è soltanto Un boss Di merda Tanto No Facciamo una cosa Utile Perché ragmega Non ce la faccio Ucciderlo A lacrime Ecco Dovevo aspettare Che ritornasse Bob E sparaglio In faccia Dolly Cambiamo L'oggetto Nella stanza Del tesoro Vedo anche Già Se c'è una batteria Nel negozio Così So se mi devo fare 10 km di strada O meno Sì C'è una batteria Ho due modi Per tentare Tengo Lucky foot Dai Magari La fortuna Aumenta La probabilità Di trovare oggetti Nuovi Non credo In realtà Però ci spero L'è Lost contact Stavo L'ho visto Mi ci aveva detto Lost contact Poi ho detto Sei sicuro Di quello che stai per dire Ha ragionato un attimo Sul Sui massimi sistemi Del mondo Poi ho detto Sì è lost contact Poi ho dato L'input alla bocca Dunque Se mi dassi Un agito Da danno Come quel Polifemus Bello di prima Adesso ho Dolly Che un po' Ma aiuta Però non è abbastanza Suon No Lost fly Non è il suono Protettore Il lost protector Che volendo Qualcosa fa Però Insomma Blue babies Imaginary friends Manco un gulp Per dire Per poter ritornare Anche la petta Efeit poop Che potrebbe essere utile Ok Non voglio fare Questa stanza In realtà Ho sprecato un po' Tre cariche di batteria Purtroppo Però Non ho la forza Necessaria A fare quella stanza Appunto Se la pistola Già mi metto in difficoltà In pratica Ho sprecato In quella stanza lì Tutto quello Che potevo aver preso Nella stanza Di prima Bella Ecco già Che il suo Un protector Fa il suo lavoro Bravo Bravo Suona Lost Non suona Scusa Brutta 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 sta stanza Brutta Troppe cose Che girano In sta stanza Ok Ce ne sono molte di meno Adesso Mio Bomba Bomba Ma dai Mi sono finito in faccia Quella lacrima Questo è backstabber No Moniqua Malpower Che palla Abbandonare Sti item Ok Non sapevo E non pensavo Se potessi passare In mezzo Al loro collo Pensavo Come per i nemici Quelli del Del Womb Che hanno La testa che gira Invece no Puro a sapersi Certo E' complicato Passare in mezzo Al collo Però si può fare Un lucky Non avevo neanche visto Un lucky penny Quello Sì a tutti Quanti Cross art No Non essere così Rompicoglioni Ti prego Bello scrigno Niente da dirgli Mi restano due stanze Posso fare anche il boss Volendo come stanze Perché non è mamma Qua che abbiamo Manca una batteria Abbiamo Il restock Lo prendo Il restock Perché con le batterie Può tornare molto utile Se fosse Magis fate Lo tolgo Rose card E la chitto Ma non mi interessa Quell'altro trinket Questa chiave L'ho abbandonata a caso No Quello Quello è stato a calcazzo Fa tutto il suo Protector Bravissimo Lost Protector Pacca Ah Ehi Sono andato Faccio io Qualc'olpo Mmm Devo se riesco a colpirlo Mentre qua Tipo Grande Grande Peccato che non mi ha dato un cazzo Ok Allora mi serve il D6 Da usare nella stanza del tessoro Se no Bombardo Ehm Negozio Proptosis Tanto quanto monico ha il power Abbandonare Proptosis È una Una blasfemia Batterie Batterie E ultimo oggetto Friendly Fly Che begli oggetti di merda Loki Merda Merda No 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 Vai su di lui Vai su di lui Bravo Proprio di aspettare un secondo Perchè Tirare giù anche quello Va bene Va bene Questo così Uguale Ok Ok Infatti in qualche modo ce l'ho fatta Tess up Questo lo prendo Perchè Questo almeno Se spawna qualcosa Mi spawna entrambi Duality è l'unico oggetto Che posso prendere Va bene Nope 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 Niente Solo un po' Sono un po' Nella stazione In cui non so dove sparare Bob Ok Intestini rotolanti Dello schifo Che non sono altro Tra un po' Lucky Te lo posso abbandonare Quanto di fortuna Tra di fortuna Non mi cambia la vita Colpa mia Non ci ho pensato Mi serve Mi serve La stanza Del tesoro Maledetti Le stanze più brutte Che potevano succedere Una delle poche volte In cui Explosive Diaria Serve a qualcosa Solo perchè L'ho voluto sfruttare Sennò Non serviva Il turn up Cazzo Quella è mamma Io non posso andare Da mamma Con sto Cazzo Ho perso Un sacco di stanze Che potevano tornare Inutili Per ricaricare Il D6 Ma porca puttina Questo qua Era un nemico Era un cempio rosso Questo Sì Ok Non è di qua Per fortuna Che sto più veloce Di me A pensare Di colpirlo Quindi qua Ok 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 Retrovision Togli retrovision Metti retrovision Anzi In questo caso Al contrario Metti retrovision Togli retrovision Che culo Che paura Mi aspettavo Grid Francamente Giustamente L'unica via Che non ho preso C'è la stanza Del tesoro No Non su di lui Su di lui Ok E Alla fine Ok Ok Alla fine La prima cosa Mi ha detto Ok Ok Comunque Oggetto Bene Sono iniziato a scoppiare Tutti in modo Molto rapido Grande Ok E tu Che Merda Di item Nine inch nails C'era la batteria lì Mi sono dimenticato pure Proviamo a fare mamma Questo è buono come oggetto Però Ah voglio Tutto 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 una da me Se da mamma Mi spawna Satana Anche se con 9% È molto Difficile Cioè mi spawno Mi spawno Entrambi In realtà Un po' vicino Ok Morto Niente Voglio cambiare Sì Un oggetto In più preso Ho buttato A fanculo Il negativo E la polaroid Non me ne frega Ho tolto le marble Ho tolto le marble Questo vuol dire Che mi mancano Due oggetti Che trinket Prendo Che insai Non me ne frega Niente Tengo il poison shot Sono due oggetti Mi mancano Li tolgo Dalla pull Le marbles Mi restano Le forbici Che tagliano la testa E lasciano andare Il corpo In libertà Cioè tu sai Controlli il corpo E Eucaristri Mi serve il patto Degli angeli Per quello Bombs are key Speed up Vediamo se c'è C'è da arrivarci A sto punto Non essendoci nulla Da fare qua Cerco di correre Dalla stanza Dalla stanza Del boss Per favore Non rompiamo Le balle Un'altra stanza Un'altra stanza Un'altra stanza Benissimo così Chiao Un'altra stanza Un'em Un'em Di emperor Non farebbe Manco schifo Ci speravo Andasse da lui Francamente Sì Bene Una chiave Non mi ne frega Niente di una chiave Voglio trovare Il boss Sperando Non sia Matriarch Spero Non sia Matriarch Tutti Ma non Matriarch Se ci arrivo Dal boss Possibile Che non ci arrivo Non importa In realtà Se non ci arrivo O se ci arrivo Che oggetto L'ho trovato Tanto Vacca Vacca Eh Questi sono brutti Questi sono molto brutti Ok Giù Il suo cuore Non mi serveva mai La vita L'ho schifato Sono troppo in là Vediamo subito Items Era qui No Era uno di questi E Dove Caspita Aspetta Non era mica Non era telechinesi Se l'ho preso a caso Magari No Ah eccolo qua Non lo riconoscevo Dall'iconcina piccola Marbles Ah Perfetto Restano questo Che dovrebbe essere Eucarist E quest'altro Che se quello è io Che riesco Sono le forbici Oh Due item al completamento Al 100% Al Quello Mille mila per mila Cos'è Ah Va bene Come ho detto prima Stacco per adesso Vado a mangiare E Torno più tardi Non so bene a che ora Torno Dipende quanto ci metto a mangiare E Devo anche un po' svegliere Sono un po' tormentato Nonostante stia Bevendo un energy drink Comunque Saluto comunque Come se fosse la fine del live Grazie di essere passati Grazie a chi c'è ancora Ci vediamo più tardi Con Non faccio Isaac Anche se manca poco Non faccio Isaac Faccio Penso Bloodball O Darkest Dungeon O Dark Souls C'è anche quello da fare Effettivamente E Va bene A dopo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti